Gentili telespettatori, buona giornata. Silvio Berlusconi fa il pranzo con i big di Forza Italia e in questo pranzo si parla di una valutazione, di valutare e in molti hanno parlato di un avvertimento a Giorgia Meloni. Eh sì, lui è quello che si offende facile perché Giorgia Meloni non lo ringrazia per il regalo di Natale, perché Giorgia Meloni va al G20 e non gli telefona per chiedere dei consigli, lui si offende perché non gli hanno fatto ministro lì l'ex infermiera Ronzulli, lui si offende perché voleva i ministeri e non li ha avuti, è per maloso e non ha mai accettato, questo lo dicono tutti, non ha mai accettato che nessuno possa neanche lontanamente scalfire la sua, come possiamo dire, la sua centralità in politica. Infatti avete visto quanti delfini ha avuto, chi aveva Alfano, il Delfino Alfano, il Delfino Totti, hanno fatto tutti una brutta fine, una brutta fine perché lui i delfini non li vuole, o meno li crea i delfini e poi questi delfini spariscono perché lui non vuole nessun tipo di concorrente, spesso è tipico delle persone che nella vita hanno costruito questi imperi, è tipico che non vogliano nessuno che possa scalfire la loro centralità. Ecco, ma intanto Berlusconi sostiene, sosterrà il governo, dicono tutti così sempre, poi alla fine. Forza Italia dice è la forza politica con la maggiore esperienza di governo e vedete che continua ad autolodarsi, dà il suo contributo qualificato di idee e di proposte per fornire soluzioni in linea con i problemi dell'Italia. Meno male che Silvio c'è che dà delle soluzioni in linea con i problemi dell'Italia. Quindi tutti in coro cantiamo meno male che Silvio c'è con l'8% o meglio col 6%. Se fosse così importante Berlusconi in politica oggi non avrebbe il 6%. Lo è stato, certamente, cosa facciamo? Neghiamo che non lo sia stato. E lo è stato tantissimo, però oggi non più e lui non si rassegna. Bene, ma lui dice di avere un sostegno deciso e leale al governo di centrodestra, presieduto dalla Meloni, del quale Forza Italia è parte determinante, un esecutivo che ha la forza e l'autorevolezza internazionale necessarie per affrontare i principali dossier europei e saprà sicuramente essere all'altezza delle aspettative degli italiani. Dice, valutiamo con prudenza la proposta di autonomia differenziata che non deve in alcun modo penalizzare le regioni del sud. Bravo Silvio, bravo Silvio, su questo sono con te. L'autonomia non deve penalizzare le regioni del sud, ma nell'adea dei leghisti l'autonomia è una sorta di secessione economica, anche se voi glielo dite, però loro negano con forza dicendo non è vero, no, 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 le regioni del sud ci guadagnano, sì, il gusto ci guadagnano, le regioni del sud ci guadagnano, sì, ci guadagnano il nervosismo. Bene, la realtà è proprio questa. Loro cercano una scissione economica dell'Italia, che il nord rimanga con la maggior parte della ricchezza prodotta e passi il meno possibile a Roma, che poi redistribuisce alle regioni meno fortunate economicamente del centro sud Italia. E allora Berlusconi che cosa dice? Dice, fa capire alla Meloni che valuteremo con prudenza la proposta di autonomia differenziata, ma anche la Meloni non ne vuole sentir parlare di autonomia leghista, solo che per i leghisti è un qualcosa di assolutamente fondamentale. Allora la Meloni dice sì, 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 beh certo, adesso vediamo, però dopo facciamo tutto insieme, facciamo col presidenzialismo, sapendo perfettamente la Meloni che con grande probabilità il presidenzialismo non riuscirà a farlo. Perché? Per mancanza di voti, ci vuole una certa maggioranza per fare le modifiche costituzionali e sembrerebbe che senza aiutini tipo Renzi o altri non potrà, non potrà realmente fare il presidenzialismo e senza il presidenzialismo niente autonomia. La Meloni non ha nessuna intenzione di fare l'autonomia come la vogliono i leghisti e neanche la lega. Quindi io credo proprio, magari poi mi sbaglio, che l'autonomia, quella che vogliono i leghisti, non sarà mai e poi mai fatta. E poi Silvio Berlusconi in una nota ha precisato che al centro dell'incontro è stata la legge di bilancio. Questa legge dà una risposta rapida ed efficace a famiglie imprese maggiormente colpite dal caro energia. È necessario allo stesso tempo fare il massimo sforzo possibile per aumentare le pensioni minime a 1000 euro, che rimane l'obiettivo di Forza Italia per questa legislatura. Beh, parliamoci chiaro. La Meloni sta facendo fatica per alzare le pensioni a 600 euro, da 520 più o meno a 600 euro. Oltre l'inflazione, nel senso che già l'inflazione le alza di un 12%, ma la Meloni non riesce a delle difficoltà ad alzare le pensioni di quei 10-20 euro in più. Perché? Perché non ci sono soldi. Non è questione di non volere. Perché non ci sono soldi? Immaginate questo. Alzarla da quasi 600 euro, ipotizziamo da 520, a 1000 euro. Comporta un esborso che probabilmente va oltre i 30 miliardi di euro. Guardate, Berlusconi ha assolutamente ragione. Bisogna alzare le pensioni minime a 1000 euro. E già 1000 euro, secondo me, è una cifra che è già fuori da quello che dovrebbe essere. Dovrebbe essere la pensione minima, dovrebbero essere più di 1000 euro. Però, come tutte le varie pensioni, la pensione di invalidità, tutte le varie pensioni che si danno in Italia non dovrebbero essere inferiori a 1000 euro. Non dovrebbero, vi ho detto, non dovrebbero. Perché l'Italia, non avendo soldi, avendo tutto a debito, più debiti che entrate, realmente la cosa giusta che sta dicendo Berlusconi, che è quella di alzare le pensioni a 1000 euro, non si può fare. Non è che non si vuole o si dice no perché si vuole mettere quei soldi da un'altra parte. Voi sapete che per il taglio delle bollette ci sono voluti 21 miliardi e non sono neanche 30. Per mettere 1000 euro a pensionato minimo ci vogliono 30 miliardi, ma non una volta sola, all'anno. Per questo che non è possibile farlo. Grazie a tutti e arrivederci a presto.